dal basso, ecco perché le diplomazie, le città, la cultura, provare a scrivere delle pagine diverse, visto che si è instaurato il nuovo Parlamento europeo, parlare un po' meno della globalizzazione dei mercati, dei mercanti, delle transazioni finanziarie, delle speculazioni e parlare un po' di più di globalizzazione delle persone e dei diritti, cioè provare a scrivere dalla nostra città con le tante sofferenze che ci contraddistinguono e complessità che il verbo essere conta più del verbo avere, sarà perché non abbiamo soldi e quindi abbiamo dovuto inventarci anche come ripartire, io dico che oggi, ed è un dato straordinario, voglio fotografare solo questo, l'altro giorno mi ha chiamato il Presidente dell'Associazione dei Bed and Breakfast del Centro Storico di Napoli, ho detto voglio dare una notizia e credo che al Sindaco farà piacere, per la prima volta nella storia della nostra città abbiamo dovuto, tra virgolette, rispingere alcuni turisti in provincia perché in tutta Napoli non c'era un posto per ospitare i turisti, quindi evidentemente si sta raccontando un'altra Napoli nel mondo, quindi tra le tante cose di cui andiamo più fieri, dico andiamo perché non è merito mio, è merito della città, andiamo più fieri è quello di cercare di provare a ricostruire la Napoli della storia per guardare al futuro. Ecco, lei ha parlato della spazzatura, della monnezza, così poi anche si è imparato a conoscerla in tutta Italia di alcuni anni fa, è vero che oggi la città non è quella da allora, è in dubbio, però la montagna è ancora da scalare, nel senso che gli obiettivi che si era fissata all'amministrazione comunale sono ben lontani. La montagna è enorme, i problemi sono... E poi se ne va all'estero ancora questa spazzatura, cioè nel senso che il problema va risolto qua. No, la spazzatura è vignita, visto che parliamo di un confronto e forse è l'occasione anche di approfondirle anche da parte voi, vostra una serie di temi, va una piccola parte all'estero pagando meno rispetto a prima. Le racconto un dato, prima i rifiuti si portavano in provincia e si spendeva qualcosa tra i 150 e i 170 euro a tonnellata, oggi per un periodo transitorio una parte vanno all'estero e si risparmia su ogni tonnellata circa 30-40 euro. Quindi il problema non è risolto. Noi siamo una città in predissesto. Che significa in predissesto? Non possiamo investire, perché non ci sono soldi. Quindi questo significa che quella montagna si deve tutta scalare. Ci sono i problemi che lei cita i rifiuti, ma io le potrei citare tantissimi altri problemi sulle quali abbiamo tantissime difficoltà. il trasporto pubblico che non possiamo investire come vorremmo. Però è la città che va in controtendenza, cioè la città che ci viene premiata come la migliore metropolitana d'Europa, è la città che tra due anni avrà chiuso tutti i cantieri aperti, è la città che ha avuto il finanziamento per completare la metropolitana, è una città che non restituisce un ero di finanziamenti comunitari.